C'è nessuno! Mio padre mi raccontava delle storie di un mondo nascosto dove guerrieri coraggiosi brillano su di noi e ci proteggono. Non è magnifico? Diceva sempre solo perché non hai visto qualcosa non vuol dire che non esista. Che succede, piccoletta? Una chiocciola parlante. A dire il vero, sono una lumaca. Niente gusso qui, pupa. Ma voi chi siete? Siamo i Leafmen, protettori della foresta. Papà, aveva ragione. Io distruggerò la foresta ma lo farò una volta soltanto perciò presta attenzione. Corri! Vieni, sei con noi ora! Papà, ho fatto un sogno stranissimo. C'erano lumache parlanti e soldatini e... Ciao! Oh, accidenti! Papà! Sono qui! Oh oh! Oggi niente bacini! Corri! Oh oh oh! Interior! iddrio! Ecco. Grazie a tutti.